Potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo per il rispetto delle norme anti-Covid a partire dal prossimo fine settimana e per tutto il periodo natalizio su tutta la BAT e quanto pianificato nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto di Barletta Andreatrani, Maurizio Valiante. Massima attenzione sarà prestata per scongiurare il rischio di assembramenti in prossimità delle arterie maggiormente frequentate per lo shopping natalizio, nonché in quelle zone considerate più a rischio per il possibile ritrovo di giovani. Nel mirino anche il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza all'interno degli stessi esercizi commerciali ed aree mercatali. I servizi straordinari di controllo saranno effettuati in collaborazione con le polizie locali e la ASL. L'attenzione sarà rivolta anche alle stazioni ferroviarie e ai terminal di trasporto pubblico. Infine la prefettura ha reso noti i dati relativi ai controlli effettuati dalle forze di polizia nel territorio della BAT a partire dal 1 dicembre. Le persone controllate sono 7.839, di cui 404 sanzionate. Gli esercizi commerciali controllati sono invece 509, con 8 titolari sanzionati amministrativamente e 8 titolari cui è stata disposta la chiusura provvisoria dell'esercizio.